Emporio Querciola Vagabonda E sauna! Saldi grande sventita, costumi a metà prezzo, zoccoli e protezione solare di mia invenzione, ya? Ah, bene! Per ora, che ne dici di scarponi? Scarponi pesanti e abiti. Quelli sono nel reparto invenale. Oh! Mi chiedevo se un'altra giovane fanciulla, la regina magari, non so, fosse passata di qua. L'unica pazza ad uscire con la tempesta sei tu. Tu e il montanaro? Saldi grande sventita!